I benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome Fisiomedica Specialisti in medicina fisica e riabilitativa Fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva Rieducazione posturale globale Misura e prenotazione plantari e ortopedici Ozonoterapia, Tecar e laser terapia Elettroterapia antalgica Ecografie e visite specialistiche Fisiomedica Via Nitti 1, Agropoli, Salerno Per info e prenotazioni 366 20 90 988